Il nome di questo prodotto mi ha fatto storcere il naso nell'asso di tempo tra l'ordine e il suo arrivo perché Ring, questo è il nome del prodotto riportato anche qua sulla confezione sembra essere un po' una forzatura, un'analogia rispetto al marchio di Amazon che ha lo stesso nome o meglio una linea di prodotti che ha questo nome che si occupa proprio di prodotti che consentono di vedere in altri luoghi e quindi sembrava un po' un'onimia che stonava rispetto a quello che già esisteva con quel nome però provando questo prodotto mi sono del tutto ricreduto l'ho trovato un prodotto all'altezza, anche abbastanza coerente per rapporto qualità-prezzo di qualità sia costruttiva sia software ma di tutto questo ve ne parlo tra pochissimo vediamo che cosa c'è all'interno della confezione e partiamo da lì vedete che ho già tirato fuori la telecamera perché è da qualche giorno ormai che la sto utilizzando sul serio la sto impiegando per comprendere a fondo quelle che sono le sue potenzialità questo è il prodotto che si trovava all'interno della confezione dove troviamo però anche altre cose troviamo ad esempio il manuale di istruzioni che è anche in lingua italiana e quindi assolutamente comprensibile tra l'altro un manuale di istruzioni che non è di quelli incomprensibili frutto di una traduzione improbabile ma ben tradotto e assolutamente comprensibile con i passaggi step by step che consentono di seguire tutta la procedura guidata che permette poi di andare a utilizzare la telecamera con la sua applicazione applicazione che non conoscevo applicazione che si chiama EasyWi esattamente come il nome del brand applicazione dicevo che non conoscevo ma che mi ha sorpreso ci arriviamo tra pochissimo dentro la confezione anche l'adesivo 3m che consente di fissare la telecamera al muro quindi niente tasselle e viti in confezione rispetto ad altri prodotti una sostanziale differenza perché con questo è veramente molto comodo in qualche secondo si è fissata al muro ed è finita lì l'installazione senza buchi che nel lungo periodo poi magari possono anche infastidire cavo di alimentazione micro usb avrei preferito l'usb c però ci accontentiamo e alimentatore che consente di tenerla accesa alimentatore da 1,0 ampere 5 watt 5 watt e 5 volt spuntone per il reset c'è un tastino di reset qua sul retro piccolino che si tiene premuto e si va a resettare la fotocamera lateralmente slot per la micro sd connettore per l'alimentazione altoparlante microfono nella parte frontabile c'è ancora la pellicola originale nella parte nera che nasconde i led a infrarossi piccolo taglietto qui sotto che è un led di colore blu che consente o rosso dipende da quello che sta facendo che consente di comprendere se stia riprendendo oppure oppure no ma ci arriviamo tra pochissimo complessivamente come l'ho trovata pesa pochissimo e questo è un punto di forza immenso sta bene con la sua staffa già montata sia su un tavolo in questa maniera sta perfettamente in equilibrio senza bisogno di dover ancorare in altro modo sia al contrario messa su una parete per andare a 45 gradi a sorvegliare una determinata zona può ruotare in altre direzioni per trovare il giusto orientamento per cui è una soluzione veramente veramente versatile che pochi brand hanno e soprattutto quasi nessuno permette di collegare con un adesivo 3M la telecamera a piazzarla al muro ma andiamo all'applicazione che è quella che mi ha veramente sorpreso sull'applicazione che cos'è che mi ha sorpreso da una parte la semplicità perché ce ne sono tantissime di applicazioni per telecamere mi sono sempre trovato molto bene con l'applicazione IEYOT che è del gruppo Xiaomi tra l'altro e tutte le telecamere che supportano quell'applicazione perché l'ho sempre trovata molto semplice da utilizzare questa applicazione la EasyWe è altrettanto semplice forse anche meglio per alcuni aspetti e consente di gestire in maniera molto simile quelle che sono le principali funzionalità e cioè il Motion Detect il Sound Detect perché permette anche di attivarsi sulla rilevazione del suono non solo dei movimenti e tutte quelle che sono le impostazioni di programmazione legate all'accendersi allo spegnersi che possono essere legati all'orario quindi ai giorni della settimana e ai diversi orari piuttosto che azioni di attivazione e disattivazione manuali che si possono andare a dare nelle impostazioni oppure piccola chicca che ho tanto apprezzato la possibilità di spegnere automaticamente per privacy la telecamera quando il nostro telefono è sulla stessa rete della telecamera e quindi di fatto quando si torna a casa il telefono e l'app il telefono con l'app e la telecamera si trovano sulla stessa identica rete wifi e lei si disattiva in modo tale da non andare a registrare mentre siamo in casa una funzionalità che a fare da un punto di vista ingegneristico ci vuole veramente poco una piccola chicca che è veramente rarissima da trovare su altre applicazioni ma non è finita qua perché questa telecamera non vive solo con la sua applicazione ma si integra benissimo in tanti ecosistemi almeno tre che sono quelli fondamentali e cioè Alexa e tutto il mondo delle skill legate all'assistente vocale poi anche Google Home con la possibilità di mostrare le riprese sui dispositivi dotati di schermo come i Google Nest Hub Google Nest quelli con lo schermo cosa rarissima perché sono ben poche le telecamere compatibili con quegli schermi e quando si chiede a Google di mostrare le immagini lo farà come se fosse un video in diretta che va a mostrare quindi si può fare il cast sul televisore si può mostrare sullo schermo insomma veramente molto comodo e si esce anche un po' dal solo ecosistema degli eco show di Alexa andando a coprire anche i prodotti di Google e quindi ottimo il fatto che entrambi siano supportati ripeto è una cosa veramente molto rara tantissimi nuovi prodotti sono compatibili per Alexa ma molti pochi sono compatibili per Google Nest e generalmente costano delle cifre assurde oppure sono fatte direttamente da Google stessa detto questo è compatibile anche col protocollo ONVIF il protocollo ONVIF lo ricordo è il protocollo universale di comunicazione tra telecamere di brand diversi con gli NVR cioè quegli apparati che messi sulla rete consentono di occuparsi di gestire la registrazione delle riprese delle diverse telecamere magari anche di marche diverse e quindi utilizzando questo protocollo pur essendo magari di marche diverse le telecamere riescono tutte quante a comunicare con un solo NVR che curerà con un hard disk interno sono degli apparati apposta che si possono acquistare separatamente ovviamente nulla incluso in confezione ma si possono utilizzare queste telecamere anche su una rete che ha telecamere più professionali con un NVR che cura le registrazioni e se ci vogliamo invece semplificare la vita abbiamo due alternative cioè la micro SD che si può mettere qui di lato e così facendo potremo registrare lì sopra e poi da remoto andare a vedere le riprese con la timeline scegliendo il punto in cui riprodurre e dalla micro SD andrà a proporre in diretta sul nostro smartphone magari anche fuori casa la ripresa che è stata registrata oppure attivando il cloud a pagamento però attenzione direttamente del produttore EasyWee beh complessivamente 44 euro per un prodotto di questo tipo sì li vale secondo me li vale la qualità dell'immagine ripresa è buona non è ottima non parliamo di 4K non parliamo di un prodotto che abbia un'applicazione per desktop e quindi parliamo comunque di una telecamera che è da vedere poi sullo smartphone eccetto che sempre da desktop non abbiamo appunto un NVR e quindi con i suoi software dell'NVR si può vedere poi anche questa telecamera secondo me questo è un prodotto abbastanza low cost per quello che fa che risponde a quell'esigenza cui quasi nessuno aveva ancora pensato di quegli utenti che hanno Google in casa e che vogliono un prodotto magari per monitorare la porta d'ingresso per monitorare il balcone piuttosto che il garage o la cantina che si trovano dall'altra parte ogni tanto hanno piacere di chiedere di mostrare in diretta l'immagine di quella stanza di quel posto di quella telecamera poi alla fine in modo tale da tenere sott'occhio quello che accade oppure si possono anche poi andare a creare delle routine delle automazioni per le quali si viene coinvolta la telecamera il protocollo on-vif insomma consente proprio di rendere più versatile e più aperta la trasmissione dei dati a quegli apparati che lo richiedono che cosa manca a questo prodotto forse gli manca solo if this then date l'integrazione con il servizio che consente per la domotica di casa di integrare diversi apparati tra loro l'integrazione con i fit sarebbe ottima e sarebbe la ciliegina sulla torta per un prodotto che a questo prezzo beh è sicuramente raro da trovare io l'ho apprezzato veramente molto contro ogni aspettativa iniziale che mi sembrava un po' una copia che volesse giocare sul nome ma che al contrario poi si è rivelato essere una telecamera di tutto rispetto che lavora molto bene e che non so magari il prossimo anno se questa applicazione e questi prodotti prendono piede potrebbe anche essere che vadano a sostituire le mie telecamere del 2020 perché quest'ulteriore integrazione con Google è veramente una marcia in più che mancava appunto a tutti quelli che invece hanno tenuto test per il 2019 e il 2020 per il 2020